La reclam Pretendere La camera da letto di una figlia che la mamma vuole tenere bambina, rosa neonato con uno specchio girevole che sarebbe bene anche in una casa per le bambole. La ragazza che abita questa cameretta è sovrappeso, si guarda allo specchio, sovrappone al proprio sedere l'immagine di un paio di chiappe da modella coperte da un accolotto di pizzo nero. Così, per vedere come starebbe. Claim Pretendi di più Cliente Get fit Cola Paganda 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 Transpekt Trag